Assessore Campagnolo, la Lega Nord chiede un commissario ad acta per il ponte. Mi pare che l'estate genera poi anche iniziative simpatiche, diciamola così. Potrei rispondere che le esperienze di commissariamento in Veneto, vedi Mose, vedi Pedemontana, non è che siano delle buone referenze, ma soprattutto non ci sono i presupposti, non capisco qual è il motivo, siamo in una situazione che non giustifica alcunché di eccezionale se non alzare il livello di attenzione rispetto al ponte, che è una situazione oggettivamente di progressivo degrado, ma credo che in maniera corretta noi lo stiamo evidenziando, senza nascondere niente a nessuno, e ci stiamo impegnando, ci siamo impegnati in quest'ultimo anno a mettere in piedi un'ipotesi di progetto di restauro che non c'era, mi pare che sono, non so, hanno fatto anche il nome del commissario. Ma possiamo rassicurare i bassanesi sul fatto che il ponte non crolli? Ma questa mattina io ho parcheggiato in Viale Scalabrini e sono andato su il castello attraversando il ponte, con un tornato adesso per andare a casa, ho riattraversato il ponte a piedi e non vorrei minimizzare, i problemi ci sono e stiamo facendo tutto il possibile per attivare questa fase di restauro, però il ponte è lì, insomma se ci fossero problemi l'avremmo chiuso e il ponte rimane aperto, quindi non ci sono problemi di crollo o cose di questo genere.